Incidente in fase di atterraggio per un aereo Emirates all'aeroporto di Dubai. Il velivolo ha preso fuoco ed è stato necessario attuare le procedure d'emergenza. Tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati messi in salvo e, secondo le prime informazioni fornite dalla compagnia, non ci sono feriti. A bordo dell'aereo, un Boeing 777 proveniente dall'India, c'erano 275 passeggeri oltre all'equipaggio. L'aereo è raggiunto in orario alle 12.45 ma ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza per un problema al carrello. Tutte le partenze dello scalo internazionale di Dubai sono state sospese.